Nei giorni scorsi ragazzi abbiamo potenziato, maxato e utilizzato per pochissimo questo nuovo brawler leggendario Sandy E abbiamo appurato che è davvero un brawler un tantino un po' troppo forte perché è davvero fortissimo ragazzi Cioè è davvero davvero troppo forte Chiaramente come vi stavo dicendo l'abbiamo anche maxato e con l'abilità stellare che è a disposizione è veramente qualcosa di incredibile Fare 200 di danno in un raggio così ampio è davvero incredibile Quest'oggi ci andremo a giocare in tutte le modalità e vi spiego un attimino perché dovete utilizzarlo prima che succeda qualcosa Ascoltate tutto il video Ragazzi prima di iniziare con il video volevo parlarvi del progetto RPG più ambizioso per quanto riguarda i giochi mobile Sto parlando di Ride Shadow Legends Nonostante sia un gioco mobile le sue performance possono essere tranquillamente paragonate a quelle di un gioco per PC o per console E volete sapere qual è la parte migliore di tutto ciò? Che è completamente gratuito Ride a tutto ciò che ti aspetti da un gioco RPG Una storyline davvero fantastica Delle battaglie PvP avvincente Delle boss fight da paura Una grafica 3D fighissima ragazzi Ma soprattutto centinaia di campioni da collezionare Tra l'altro il mio campione preferito è Elaine perché ho sempre amato i personaggi che appunto utilizzano l'arco e scoccano le proprie frecce per sconfiggere i nemici E una cosa che adoro davvero tantissimo di questo gioco è il potersi confrontare con tantissimi player in tutto il mondo Infatti potete giocare online contro altri avversari Ma la cosa più incredibile è che in meno di 6 mesi questo gioco può contare oltre i 10 milioni di player ragazzi Più di 10 milioni di persone hanno scaricato e stanno giocando a Ride E a quanto pare ragazzi sta piacendo davvero molto questo gioco perché oltre 300.000 persone lo hanno valutato nel Play Store E lo hanno valutato benissimo ragazzi Quindi se non vi sto convincendo io con le mie parole Fatevi convincere da oltre 300.000 persone che hanno fatto una review positiva appunto su questo gioco Ha un rank altissimo ragazzi sia nel Play Store che appunto nello store iOS Incredibile ragazzi Ah ragazzi e hanno già preparato aggiornamenti per i prossimi 6 mesi Quindi vogliono davvero fare sul serio e fidatevi che non ci saranno momenti di noia ma solo per divertirsi Avremo nuove fazioni Tag Team Arena E nuove boss fight da combattere col proprio clan ragazzi Quindi si fa davvero sul serio Dunque io e oltre 300.000 persone vi invitiamo a scaricarlo Vi lascio i link in descrizione sia per Android che per iOS Ripeto è completamente gratuito E scaricandolo tramite i link speciali che vi lascio in descrizione Otterrete immediatamente 50.000 monete d'argento Un campione epico E poi potrete giocare con me Mi chiamo come al solito GGYT come in ogni gioco Direi di iniziare con Arraffa Gemme Andiamo tranquillamente in ordine Molto semplicemente Tra l'altro continuo a chiedervi cosa ne pensate del brawler qui sotto Nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento E anche delle nuove modalità eccetera 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 Allora ragazzuali oh tra l'altro abbiamo 8 bit contro e 8 bit a favore diciamo come compagno Proprio perché nel discorso volevo prendere 8 bit E voi direte GG ma che c'entra 8 bit nel discorso? C'entra che io avevo fatto esattamente paro paro questo video anche con 8 bit Perché a mio parere 8 bit Tra l'altro ho felato ad utilizzare la ulti non volevo utilizzarla ragazzi Perché 8 bit quando è uscito ok sì aveva un sacco di danno Era fortissimo tutto quello che volete ma essendo molto lento Avendo mi inizia anche a laggare non è ottimo Avendo anche una vita normale direi che comunque come brawler è abbastanza equilibrato I problemi sono nati nel momento in cui hanno aggiunto come abilità stellare vita extra E infatti appena uscì vita extra io feci un video particolare In cui vi consigliavo di utilizzare 8 bit finché eravate in tempo E molti mi presero per pazzo Molti mi iniziarono a dire GG e clickbait Quando in realtà regà è palesemente così Cioè 8 bit era troppo forte ed era palese che sarebbe stato depotenziato E infatti non so se lo sapevate ragazzi Ma nell'ultimo aggiornamento nel bilanciamento che hanno fatto appunto adesso con l'uscita di Sandy Hanno depotenziato significatamente Stiamo parlando ovviamente di 8 bit L'abilità stellare di 8 bit vita extra E quindi regà direi che c'avevo ragione Ma raga io non è che c'avevo ragione e facevo una supposizione È che se vogliono mantenere un gioco equilibrato Devono per forza fare determinati ritocchi E in quel caso andava assolutamente ritoccata l'abilità stellare vita extra Vi spiego com'è stata ritoccata Sempre se non lo sapete già insomma Praticamente 8 bit prima con vita extra cosa faceva? Rinasceva immediatamente dove moriva Aveva una vita extra lo dice l'abilità stellare stessa Quando rinasceva aveva tutti quanti i colpi carichi Tutti, tutti e tre carichi appena rinasceva Come è normale che sia Adesso quando rinasce hai colpi scarichi E ripeto è devastante come cambiamento Perché la potenza di questa abilità stellare era proprio nel fatto Che quando rinasceva Boom, sparavi a tutti e sfondavi Chiunque si avvicinasse ai tuoi power up Sei in sopravvivenza Alle tue gemme sei in arraffagemme E così via per tutte le modalità Quindi direi che la mia non era una supposizione Non era nemmeno una teoria Era un dato di fatto ragazzi Ripeto se Supercell vuole mantenere questo gioco equilibrato È costretta a fare determinati ritocchi Quando diciamo non si regola con gli aggiornamenti Con le uscite dei brawler E chi più ne ha più ne metta Bene, secondo me ragazzi Poi ripeto fatemi sapere la vostra sotto nei commenti Tra l'altro siamo subito morti Perché pensavo di riuscire a farmi fuori questo 8 bit Ma va bene Dicevo poi fatemi sapere voi la vostra sotto nei commenti Se anche secondo voi è così Ovvero che il brawler è un pochettino troppo forte Perché, ok, magari molti di voi l'avranno sbloccato Qualcuno di voi l'avrà shoppato Per carità è leggendario Quindi immagino non tantissimi di voi in realtà Su questo sono d'accordo Nel senso che comunque è un brawler leggendario Non lo avranno in tantissimi Quindi magari ci può stare che è un po' sbroccato Però a quel punto diventa un pay to win Cioè diventa che tu hai il brawler più forte E quindi riesci a vincere più facilmente Tralasciando il fatto che tutti i giochi Supercell sono pay to win Quindi nel momento in cui tu shoppi Hai dei vantaggi talmente grossi Che ovviamente sei troppo avvantaggiato Però, 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 però Non esageriamo insomma, no? Cioè la regola è non esagerare Ecco, giusto, giusto questo E, bene Diciamo che non è giusto ragazzi Perché se io ho già maxato Sandy E ho un brawler così forte Non è giusto che io vinca veramente troppo easy Perché veramente ragazzi Utilizzare Sandy Cioè la partita di prima Penso sia la prima partita Che non ho vinto Da quando lo sto utilizzando Quindi ragazzi Qualcosa di incredibile È troppo forte come brawler Quindi a mio avviso Verrà depotenziato E quindi sono qui a dirvi Ragazzi Se avete shoppato Sandy E magari l'avete anche maxato Utilizzatelo il più possibile Perché Ok che io lo sto utilizzando A coppe basse Ma vi dico che ci ho fatto Qualche partita a coppe alte Giocando con Serena Perché chiaramente Come sapete Io scalo sempre con lei E dato che in un paio di partite Ho utilizzato Sandy Mentre lei utilizzava Chiaramente Un brawler Più alto di me Di coppe Ovviamente Abbiamo avuto Un matchmaking Più verso i suoi trofei Quindi mi sono fatto Una partita Con Sandy maxato A over 5-600 E raga Vi dico che Cioè Abbiamo spaccato tutto Cioè ragazzi Abbiamo spaccato Qualsiasi cosa Ma veramente Quindi quello che dico io Raga È che è troppo forte Soprattutto con l'abilità stellare E la prossima abilità stellare Quando verrà sbloccata La seconda Quando Supercell rilascerà La seconda Abilità stellare Vedrete Che è ancora più forte di questa Perché questa fa 200 di danno Agli avversari Ma quella prossima Curerà i compagni Cioè verranno curati I nostri compagni E secondo me È un qualcosa Di ancora più devastante Perché curare i propri compagni In arraffagemme O in footbrawl O in queste modalità Raga Tanta roba Secondo me Tanta 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 roba Comunque ripeto Fatemi sapere la vostra Sotto nei commenti Di cosa ne pensate Di questo nuovo brawler Chiaramente ripeto Non ce l'avranno in tantissimi Ancora Guarda guarda Se mi dà la palla Avrei segnato tipo Mezz'ora fa Se mi avesse dato la palla Ma va bene così Ehm Appunto ragazzi Secondo me È troppo 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 Anche se magari Non l'avrete mai visto bene Perché magari Non avete Il brawler Non l'avete ancora sbloccato Magari Lo avrete visto Nei gameplay Di qualche altro Youtuber Di qualche altro Content creator Insomma Eccetera 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 Magari vi sarete fatti Una vostra idea O magari Lo avete beccato contro Cioè avete giocato contro Cioè avete giocato con un compagno Regà Fatemi sapere la vostra Perché secondo me Un po' come 8 bit Verrà quasi sicuramente Depotenziato Verrà quasi sicuramente Depotenziato E intanto Un nuovo abbonato Alessio Paparone Grazie mille Alessio Per l'abbonamento Caro Benvenuto tra gli abbonati Così completamente a caso Non si è sentito neanche l'audio In realtà Ma io nelle cuffie l'ho sentito Perché quando registro Lo disattivo l'audio Va bene Su footbrawl Stiamo facendo un po' più di fatica Più che altro Perché loro hanno Corvo e Spike Che ci sta rompendo le scatone Infatti guardate Sono sempre loro in vita Sempre loro con la spalla Eh Regà Dai 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 Grabali Su Ma non solo Spike Potevi grabare tranquillamente Anche il signor 8 bit Ah vediamo se faccio Rimbalzino No Ragà Volevo fare il gol della vita Tipo quei rimbalzini Non ce l'ho fatta Ci ho provato Ragà Ci ho provato Dai Mi gatteno Gokui Su Dammi sta palla E niente E vabbè L'ultra istinto Mi sa che non è che ce l'hai più di tanto Vabbè Però ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ragazzi L'importante è quello Sempre i migliori Tanta roba In assedio ragazzi Non l'avevo ancora provato Quindi sono un attimino Curioso E Diciamo Parlando un attimino del brawler Che non è proprio il mio brawler preferito Diciamo che a livello estetico Non è che mi faccia impazzire Più di tanto Va Diciamo così Diciamo sì Ma ne parleremo meglio Il video di domani Voglio mezzo spoilerarvi Il video di domani Andremo a parlare Dei brawler leggendari Ragazzi Domani Aspettatevi Un video leggendario Io qui volevo provare a fare Una cosa Molto tattica No Ah Mi vede Mi vede anche se sono invisibile Nella sabbia La torretta mi vede Dopo però ci voglio riprovare Ragazzi Non mi arrendo così Non mi arrendo Voglio vedere Se riesco a farlo Perché sono abbastanza sicuro Di aver visto che qualcuno Ci è riuscito a farlo Regà Non vorrei dire una cavolata Eh Ah vabbè Però qui C'è la Shelly Ce la siamo fatta Incredibilmente Too much easy Regà Stiamo dominando Stiamo dominando All'inizio ci hanno un po' Preso alla sprovvista Ma adesso stiamo Decisamente dominando Ma ancora qui la Shelly Che vuole provare a fare qualcosa Ok Io riproverei Ragazzi Io riproverei un attimino No no raga Mi vede Mi vede Mi vede assolutamente Più che altro Ho paura Che sia perché Sono vicino ai nemici Cioè I nemici mi vedono Quindi la torretta Sa che sto lì E quindi giustamente Mi colpisce Dovrei farlo In un momento In cui i miei avversari Non sono in base Ho capito Qual è il problema Ragazzi Penso sia per quello Perché comunque Ti rende invisibile Ora Ora ci riproviamo Ragazzi Voglio provare Mentre non ci sono I nostri avversari In base Perché secondo me È quello Il problema è che Molto probabilmente Con un robot Di quel livello Gli faremo la torretta Molto facilmente No Non ce l'abbiamo fatta All'1% Ragazzi Che sfiga Che sfiga Allora ragazzi Guardate Se io non vengo No Stavo per sfadare Il mito Vabbè Scrivete uno sotto Nei commenti Se qualcuno di voi Lo sa No ragazzi Che sfiga Ragazzi Che sfiga Vabbè Comunque Se qualcuno già lo sa Nei commenti Me lo scrivesse Andiamo a farci anche Una partita In stella Solitaria Ho provato Svariate volte In questa modalità E mi piace Ci sta ragazzi È parecchio complicata Ad alte coppe È parecchio complicata Perché l'ho provata Anche ad alte coppe E non è facile Per niente Però vediamo 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 se riusciamo A combinare Adesso invece Con Con la nostra Con il nostro Carissimo Sandy Siamo in testa Ragazzi Stiamo già dominando Dominiamo già La scena Questa pam Uh Subito ci siamo presi La kill Doggiamo 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 Ci dovrei arrivare adesso GG Fatto Ok Perfetto Regà 8 stelle Io ho paura che la gente Però si nasconda Rubiamogli il corvo No Peccato Se riuscivo a rubargli Anche quest'altra kill A quell'altro Sarebbe stata troppa roba Allora Quello lì tra l'altro È un bled Mi sta allaggando malissimo Però siamo ancora in testa Vediamo Vediamo Ci abbiamo avuto La stessa idea Ok Lui non ha l'abilità stellare Lui non ha come noi L'abilità stellare Facciamo di questo Che almeno si prende danni Ragazzi Tante volte Sto utilizzando la super Anche molto semplicemente Per far danno agli avversari Non sempre per nascondermi Tipo adesso Cioè ragazzi Guardate Il raggio è grosso del colpo Il raggio del colpo è grosso Ora purtroppo Ho lasciato con 20 di vita Il mio avversario E soprattutto La cosa brutta È che ho regalato 7 stelle a quel mortis Quindi potrebbe essere un problema Allora Qui abbiamo questa Pam Che però sta scappando Saggiamente anche Allora Uh Che è il blatt di prima No 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 È mia come kill È mia come kill Mannaggia la miseria Me l'ha rubata sta Pam Eh vabbè Ma non mi può rinascere così vicino Ragazzi Non mi può rinascere qualcuno così vicino Dovrebbero migliorare un attimino Gli spawn Quello sì Però la modalità ci sta ragazzi Possono migliorare un sacco di cose Però La modalità In Ma ci sta Damme la mela kill Non ci provare Sì il corvetto si è buttato tranquillamente Nella mia tempesta di sabbia Ma sì vai tranquillo corvetto Non ti preoccupare Non ti preoccupare corvetto Vabbè tanto qui ormai eravamo morti Siamo ancora in testa Mancano 7 secondi Quindi Ce la dovremmo fare Anche se non è detto Perché se adesso c'è qualche kill Con parecchie stelline Eh Ce la rischiamo No Vittoria Molto bene ragazzi Gigi abbiamo perso solamente Quella partita in sopravvivenza Dove mi sono distratto per parlare E quell'8 bit ci ha squagliato Grado 7 con Sandy Ma vabbè Non c'è neanche da commentare Fatemi sapere cosa ne pensate voi Sotto nei commenti A mio parere verrà depotenziato Prima di subito Quindi ragazzi Utilizzatelo finché potete Anche se non avete l'abilità stellare Perché è abbastanza veloce Ha parecchia vita E ha un danno spropositato Con l'abilità stellare Grazie alla ulti È veramente una cosa incredibile Perché il raggio d'azione È gigantesco E niente ragazzi Ripeto fatemi sapere la vostra Lasciate un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non l'aveste fatto E noi ci troviamo domani Un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi